100 anni e non sentirli. La parrocchia San Marco Evangelista a Castellabate vive alla presenza del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, un appuntamento di confronto e di riflessione grazie alla pubblicazione del libro del centenario fortemente promosso dal parroco Don Pasquale Gargione. L'appuntamento in programma giovedì 16 dicembre, a partire dalle ore 18, presso la chiesa parrocchiale, vede la partecipazione dello storico Gennaro Malzone e la testimonianza laicale del vicepresidente adulti di Azione Cattolica Vito Rizzo. Riflettere sull'importanza della parrocchia quale centro aggregante e nucleo di identità della comunità locale è un elemento fondamentale per la valorizzazione del contesto culturale umano che rappresenta il fondamento su cui si conserva viva la forza della tradizione. Un appuntamento importante non soltanto per la comunità di San Marco di Castellabate ma per l'intera forania Castellabate-Cilento e per la Diocesi di Vallo della Lucania che di questa bellezza locale ha imparato a fare sempre più tesoro nella gioia della fede che anima il popolo di Dio.